ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento, in più servizi e rubriche sui comuni problemi legali, le risposte dei nostri avvocati, un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Marco Pola, dello studio legale NPA di Milano. Oggi vorrei parlarvi di mobbing, fattispecie che sta diventando sempre più diffusa, soprattutto in concomitanza con la recente pandemia da coronavirus. Infatti ricordiamo che siamo in presenza di un divieto di licenziamento, per ragioni tecnico-organizzative, per esempio un'azienda che ha un calo di fatturato, potrebbe avere la necessità di ridurre il personale, la forza lavoro in essere in azienda. Ecco, in questo momento questa azienda non può licenziare il lavoratore. Allora questa situazione è un terreno fertile per alcuni lavoratori che sono vittime di un demanzionamento, sono vittime di comportamenti dei datori di lavoro che inducono il lavoratore stesso a dimettersi. Questi sono i casi più esemplari, ma possiamo anche ricordare nel fenomeno del mobbing anche quei lavoratori che non possono fruire di benefit aziendali come altri colleghi. Tra i benefit ricordiamo esistono l'autovettura, il pc portatile, il telefonino, ma anche casi molto più banali come il lavoratore che non ha in dotazione la card per fruire del caffè gratuito in azienda. Tutti questi comportamenti mirano a creare una situazione di stress nel lavoratore, creando proprio una vera e propria patologia, una vera e propria patologia che dovrà essere riconosciuta da un medico. Come avevamo detto all'inizio, in questa situazione di pandemia, molti datori di lavoro cercano degli escamotage per riuscire a ridurre il personale in azienda. In presenza di un divieto che è in vigore fino al 30 marzo e che verrà prorogato con il decreto Draghi, i datori di lavoro cercano delle vie alternative per sfrondare le risorse lavorative in azienda. Cosa deve fare il lavoratore quando si trova in presenza di comportamenti che pregiudicano la sua posizione in azienda? Anzitutto deve denunciare. Denunciare possiamo intenderlo in senso tecnico o in senso a tecnico. Denunciare vuol dire anche semplicemente scrivere delle comunicazioni via mail al proprio datore di lavoro nelle quali manifesta il proprio disagio, il proprio malessere. Io consiglio sempre anche di manifestare anche il proprio attaccamento all'azienda, ma nel contempo, in maniera cortese, manifestare quello che è il proprio disagio di fronte a dei comportamenti che lo escludono per esempio dalle riunioni aziendali, da dei progetti presenti in azienda, un'esclusione sistematica. Perché in caso di mobbing dobbiamo ricordare che il comportamento datoriale deve essere reiterato nel tempo, deve essere una condotta vessatoria, quindi che danneggia il lavoratore, che è con un intento anche persecutorio. Si parla proprio di un intento persecutorio perché dobbiamo pensare che nelle aule di tribunale il fenomeno del mobbing viene riconosciuto quando siamo in presenza di reiterati comportamenti del datore di lavoro che mettono in atto una strategia per danneggiare il lavoratore. Cosa deve fare il lavoratore in queste situazioni? Abbiamo detto prima che deve denunciare questi comportamenti, sia con delle comunicazioni sia anche in ambito penale, laddove ne sussistono i presupposti. In l'ambito penale mi riferisco laddove ci siano delle aggressioni verbali o addirittura nei casi più gravi anche fisico oppure ricordiamo anche le avance sessuali possono rientrare nell'alveo del mobbing. In questi casi il lavoratore quindi denuncia questi episodi e poi, cosa altrettanto importante, deve provare questo stato di malessere, questo stato di pregiudizio che subisce e per farlo dovrà affidarsi a un medico. Io consiglio sempre di non affidarsi semplicemente al medico curante, a uno psicologo, ma rivolgersi anche a strutture specializzate, magari anche in ambito pubblico, che sono i centri che riconoscono lo stress in ambiente lavorativo. Questo è un documento che sarà assai importante nella fase eventualmente giudiziale in cui il lavoratore chiederà di un risarcimento del danno connesso al mobbing subito. Molto importante perché il medico curante si presume in alcune aule di tribunale che sia non sia super partes, che sia parziale nella sua valutazione del suo paziente. Ci viene in aiuto anche un medico legale, un medico legale che dovrà tradurre in punti percentuali di invalidità il danno subito dal lavoratore. Facciamo alcuni esempi, il medico legale quantificerà per esempio per un lavoratore di 50 anni un danno in punti di invalidità che si traducono in 10 punti di invalidità. In questo caso il risarcimento che potrebbe venire riconosciuto in favore del lavoratore è nella misura di 20 mila Euro o anche 30 mila Euro. Ci sono varie variabili che poi si possono invocare per personalizzare il danno. Non ultimo si potrà anche chiedere nell'ambito giudiziale, nella causa che andremo a incardinare per tutelare il lavoratore, anche il rimborso di tutte quelle spese che il lavoratore affronta per le sedute psicologiche, per esempio perché ha uno stato d'ansia da curare. Quindi in questo ambito è come deve muoversi il lavoratore per chiedere un risarcimento del danno. Abbiamo definito il risarcimento del danno in caso di mobbing e abbiamo specificato che ci devono venire in aiuto dei professionisti. Questi professionisti appunto sono quelli deputati a far riconoscere in un ambito medico l'esistenza di questa patologia che è il mobbing perché dobbiamo ricordare che il mobbing non nasce nelle aule di tribunale. Prima è stato riconosciuto in ambito psicologico come una situazione di stress vissuta dal lavoratore che sfocia anche in alcune patologie e queste dovranno essere provate in giudizio invocando anche la violazione di norme che non sono specificatamente dettate per riconoscere il mobbing ma che sono riconosciute dall'ordinamento con l'interesse superiore di tutelare il lavoratore. Tra queste possiamo ricordare l'articolo 2087 che tutela il lavoratore nell'ambito aziendale e alcune altre norme anche di rango costituzionale quali per esempio quelle che tutelano l'uguaglianza dei cittadini o tutelano semplicemente la figura del lavoratore riconoscendo anche il suo diritto a non venire pregiudicato e a non creare situazioni di diseguaglianza tra i lavoratori. Un'ultima osservazione dobbiamo farla con riferimento a quello che sarà il comportamento del lavoratore di fronte a un datore di lavoro o in altri casi di fronte a colleghi di lavoro che mettono in atto questi comportamenti immobbizzanti in quanto la reazione che deve avere il lavoratore non è soltanto quella di denunciare ma anche quella di preoccuparsi di lasciare traccia del danno subito. Per fare questo quindi ci si deve rivolgere a un professionista a un avvocato che consiglierà anche come terminare il rapporto di lavoro. In linea teorica il lavoratore potrebbe anche avanzare una richiesta risarcitoria connessa al mobbing in pendenza del rapporto di lavoro. Qui il problema è che alcuni lavoratori non hanno la forza e il coraggio di avanzare richieste di esarcitoria quando la mattina si devono alzare e recarsi presso il posto di lavoro preferiscono far cessare quel rapporto e poi avanzare una richiesta di esarcitoria quindi dopo le dimissioni ovvero dopo un licenziamento. Quindi il nostro consiglio laddove siamo in presenza di comportamenti mobbizzanti è quello di rivolgersi a un professionista che potrà appunto assistere anche durante la vita lavorativa del dipendente non soltanto nella fase terminale quando è il momento di attivare le iniziative giudiziarie per trovare la strategia più corretta per massimizzare anche il risarcimento finale il comizio.it la voce di tutti la tua voce leggi e sfoglia online tutti i contenuti di il comizio.it ogni giorno informazione attualità e intrattenimento interviste esclusive ai personaggi del momento in più servizi e rubriche sui comuni problemi legali le risposte dei nostri avvocati un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte cultura motori cucina eventi e stili di vita società e professioni il comizio.it la voce di tutti la tua voce